Primo giorno di riapertura per quanto riguarda il mercato settimanale del giovedì nella città di Agropoli, qui nell'area mercatale di via Sandro Pertini. Adesso entriamo nell'area per andare a chiedere un po' ai mercatari come sta procedendo e il bilancio di questa prima giornata dedicata al mercato settimanale ad Agropoli. E' abbastanza bene, siamo carichi per ripartire, dobbiamo mantenere la distanza con il cliente, guanti, mascherine, poi igienizzante, quindi dobbiamo stare attenti però non dobbiamo abbatterci. E' un po' lenta comunque, purtroppo come primo giorno non si può dire altro, la gente è poca, ha paura, per il momento è rimasto così come è giusto per avviare il mercato. Poi abbiamo rimasto gli spazi, siamo molto lontano da una bancarella all'altra in modo che la gente può girare tranquilla, siamo abbastanza prudenti e cerchiamo di fare del nostro meglio. Meglio di quello che si poteva immaginare, diciamo che è stato un inizio improvvisato perché fino a pochi giorni fa non avevamo ancora la certezza delle vertute, ma con lo sforzo dell'amministrazione comunale che in questo frangente è stato vicino alla categoria siamo riusciti a riattivare il mercato che è come piazza e come cose uno dei fiori agli occhiali del Cilento. Le linee guida parlano di distanziamento sociale, significa mascherina, quanti, gel, distanziamento fra le persone, utenti e di un metro. Non si parla di distanziamento fra le merci perché le merci non creano contagio, quindi fra il mio banco e quello dopo essendoci delle brand non abbiamo contatto con l'altro operatore. La gente certamente se si dovesse verificare, cosa ormai rarissima al mercato, un grande assembramento, vuol dire che sarà a cura nostra quella di poter dire alle persone di entrare contingentate e quindi dare la possibilità di poter mettere in sicurezza la situazione. Mi ripeto, io spero che ci sia un'affluenza di gente da poter avere questa necessità, anche se non so. A Cropoli fortunatamente essendo in una piazza chiusa dove ci sono entrate e uscite con vialoni molti o ampi, rientrando nelle strisce c'è la possibilità di salire e scendere senza far sì che si crei nessun tipo di contagio, quindi non ci dovrebbero essere nessun tipo di problema. Non procede bene, però si sapeva perché all'inizio parecchie persone non lo sanno, ancora presto, c'è un po' di tempo, la gente deve incominciare a prendere coraggio per uscire, non è semplice. Era meglio stare ancora chiusi perché comunque forse l'amministrazione non ha ritenuto opportuno avvisare ovviamente la clientela perché non c'è quasi zero. Sono delle due cose messe in sé, un po' la paura, un po' la disinformazione, un po' la crisi, non c'è il controllo del mercato, c'è l'assenza totale dell'amministrazione, vigile e cose, vedo che non c'è niente. Stamattina abbiamo dovuto aspettare le sette, un nuovo regolamento per aprire il mercato, una serie di cose che comunque vanno fatte concrete, senza improvvisate. Vengo da Caserta, mercato di Acropoli, è andata malissimo, non ci sono persone, non c'è stata un'ottima pubblicità, non ci sono controlli, un mercato pari a zero, un'organizzazione diversa, un percorso obbligatorio, una possibilità di lavorare 100 banchetti tutti allo stesso modo, mille persone entrano, mille persone devono guardare tutti i banchi possibilmente, senza molta dispersione e un augurio a tutti. Posso dire che la gente ha risposto abbastanza bene, infatti anche ieri predavo l'inizio proprio con gli amici, che sono a San Zambassano a Vesuvio, e dicevo fortunatamente ho visto un po' di gente, quindi la gente mi sembra che ha voglia di scendere e di ripartire. Parte il fatto che l'hanno saputo ieri sera le persone, molta gente non lo sapeva neppure che è stato attirizzato nel mercato, e quindi non è facile ripartire, però bisogna avere la sostanza e la forza di farlo, se no rimaniamo tutti a casa ed è peggio, quindi è meglio venire così e incominciare. Grazie. 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 Grazie.